Buonasera a tutti e ben ritrovati ad una nuova puntata di Angoli, vi stavo aspettando come faccio ogni sera alle ore 19, avete fatto bene ad accendere il televisore, vi anticipo subito che tutta la nostra puntata con ospiti diversi sarà dedicato al mondo della salute, una brevissima anticipazione, più tardi incontreremo un dottore dell'ASL di Como che ci verrà a parlare della prevenzione nel momento in cui raccogliamo, vogliamo consumare dei funghi quindi avremo delle importantissime informazioni a questo riguardo e sempre di ambito medico tratteremo con il primo ospite che non vi svelo subito perché devo ricordarvi come sempre che abbiamo bisogno anche del vostro contributo per la trasmissione, vogliamo sentire la vostra voce, se volete scriverci fatelo all'indirizzo email angolichiocciola espansionetv.it, vado un po' di fretta perché non dobbiamo perdere tempo, sono troppo importanti gli argomenti che dobbiamo trattare, allora voglio dare un bel ritrovato ad un ospite che è già stato nel nostro salotto di angoli quasi un anno fa, facevamo i conti poco fa, buonasera, al dottor Giancarlo Comeri, grazie per essere qui. Grazie per l'invito. Io ricordo che lei è primario urologo all'ospedale multimedica di Castellanza in provincia di Varese, ma già primario anche al nostro Sant'Anna di Como, vero? Per 21 anni. Eh sì, eh sì, quindi noi la conosciamo bene dottore, siamo agli eti quando ci viene a trovare, parleremo di malattie prostatiche, però partendo da uno spunto perché so che questo sabato 12 ottobre lei sarà alla Quiete di Varese per un importante convegno. Sì, abbiamo organizzato un convegno infatti per i medici di medicina generale della provincia di Varese che si terrà appunto alla Quiete, caso di cura alla Quiete, sul tema dell'ipertrofia prostatica del tumore della prostata, cioè una messa a punto sulla gestione dell'ipertrofia prostatica perché ovviamente ci sono sempre delle novità che vengono avanti e quindi anche i medici di base hanno bisogno di un aggiornamento e per quanto riguarda il tumore prostatico parleremo di una terapia particolarissima che si rende opportunamente efficace in alcuni soggetti che poi magari diciamo. Eh sì, adesso entriamo nello specifico per completezza di informazione, vi ricordo che avete visto proprio la locandina del convegno che si terrà sabato 12 ottobre, se voleste avere maggiori informazioni www.laquietevarese.it il tema è la gestione dell'ipertrofia benigna e il ruolo dell'HIFU nel trattamento del carcinoma prostatico. Noi tenteremo adesso di rendere anche tutto più semplice per chi ci sta seguendo, partiamo da questo, ricordando quali sono le malattie prostatiche più diffuse dottore. La prostata è una ghiandola che è molto importante per l'uomo, per le sue funzioni, produce praticamente il liquido spermatico, dentro il quale poi noi troviamo anche gli spermatozoi, però liquido spermatico, tutto il liquido viene dalla ghiandola prostatica. La prostata va incontro a fatti infiammatori, come tutti gli altri organi del nostro organismo, quindi possiamo avere delle forme di infiammazione prostatica, si chiama prostatite a tutta l'età della vita, cominciare dai 20 anni, quindi è una patologia diffusa. Poi abbiamo l'ipertrofia, cioè l'ingrossamento benigno della prostata che interessa la popolazione soprattutto oltre 50 anni, ma che è diffusissima, perché fra i 50 e i 60 anni il 50% dei nostri uomini comincia ad avere qualche disturbo ad ipertrofia prostata. Uno su due. Bravo. A 70 anni questi diventano addirittura il 70% e poi oltre arriviamo al 90%, intorno agli 80 anni, per cui tutti più o meno, se vivono, sperimentano qualcosa del genere. Tumore della prostata, anche quello è purtroppo il più diffuso tumore che è possibile incontrare, per cui oggi è al primo posto, è superato anche il tumore del polmone, fortunatamente però è piuttosto lento e per cui nella grande maggioranza dei casi si possono fare tante belle cose e quindi la maggior parte delle persone che ammalano di tumore della prostata fortunatamente non muoiono di tumore della prostata. E questo è un dato da sottolineare, è una cosa importante. Abbiamo capito come appunto lei ci spiegava, le malattie prostatiche, quello che state vedendo parentesi inciso è la quiete di Varese dove si terrà il convegno, le malattie prostatiche colpiscono a tutte le età, se partiamo dall'infiammazione come ricordava, ma che impatto hanno sulla salute dell'uomo le malattie prostatiche? Certo, allora le infiammazioni in genere quando sono acute durano pochi giorni, come avere una polmonite, per cui si possono risolvere e i disturbi sono legati alla sfera urinaria, bisogna urinare frequentemente, bruciori, ma soprattutto la febbre è molto elevata, quando parliamo di prostatiti acuti. Poi ci sono delle prostatiti croniche che invece non danno febbre, ma che danno disturbi che poi possono diventare una brutta compagnia per tutta la vita. quindi persone che devono andare frequentemente a urinare, hanno bruciori, che hanno disturbi anche dolori, al basso ventre, al perineo, quindi è una cosa fastidiosissima. Anche perché l'aggettivo cronico ci fa capire che ci accompagna per diverso tempo. Esatto, questo per quanto riguarda le prostatite. Per quanto riguarda invece l'ipertrofia prostatica, il problema è proprio la qualità della vita che ne va di mezzo, perché chi ha disturbi di ipertrofia prostatica comincia a urinare male, a dover andare molto frequentemente in bagno, per cui ne va di mezzo l'attività professionale, la vita sociale, la vita sessuale, il sonno. Allora, tanto per dire quattro cose abbastanza importanti. Per cui la qualità della vita viene messa a repentaglio dalla ipertrofia benigna della prostata. Esatto, ipertrofia quindi, ingrossamento. Ingrossamento. Ci sono delle novità nell'ambito del trattamento appunto dell'ipertrofia benigna, quello di cui ci parlava. Allora, ci sono delle novità per quanto riguarda la terapia medica e anche per quanto riguarda la terapia chirurgica. Oggi ovviamente tutti tendono a preferire una terapia medica, fin quando è possibile evitare di andare in sala operatoria, è ovvio che. Per cui c'è tutta una ricerca che cerca di mettere a punto dei farmaci che possano incidere. E una cosa, un farmaco che è stato recentemente recepito anche dalla Food and Drug Administration, che poi è l'organo, è il Ministero della Salute negli Stati Uniti, ha riconosciuto come molecola utile e importante nel trattamento medico del tumore, scusate, dell'ipertrofia prostatica benigna, una molecola che fino a poco tempo fa veniva utilizzata dagli uomini per migliorare l'erezione. Questo perché? Perché si è visto che l'ipertrofia prostatica, come dicevo prima, tra le varie situazioni in cui interferisce, crea anche dei problemi nella sfera sessuale. E abbiamo purtroppo, più è grave il disturbo urinario, cioè più uno ha disturbi sia dal sardinotto, dei bruciori, bisogno di urinare con frequenza, magari l'urgenza di mingere perché altrimenti scappa qualche goccia di urina, cioè sono cose antipaticissime. Questo si accompagna con un incremento notevolissimo dei disturbi dell'erezione. Per cui il 50% delle persone che hanno disturbi gravi urinari per l'ipertrofia prostatica hanno anche dei problemi, dei deficit erettivi. Allora, questa molecola che veniva esclusivamente utilizzata per correggere questi stati di disfunzione erettile, si è visto che invece funziona benissimo anche sui sintomi urinari della prostata. Quindi migliora entrambe le situazioni. Allora, è possibile utilizzare questa molecola, soprattutto una di queste molecole che ha il vantaggio di essere assunta giornalmente a basso dosaggio, per cui non ci sono effetti collaterali, eccetera. E si possono prendere i famosi due piccioni come una fava, cioè migliora la parte urinaria e anche la parte erettima e sessuale. E gli uomini che sono tutti contenti, evidentemente. Mi sembra anche naturale capire il perché. Quindi questa è la prima cosa interessante che ha avuto, è già un po' di anni che se ne parla, ma adesso ha avuto proprio una conferma anche dal punto di vista di questo organo statunitense che è sempre molto guardingo e per cui il fatto di avere un'autorizzazione alla vendita con quell'indicazione da parte della Food and Drug Administration è un grosso vantaggio. Sicuramente è per la ditta che lo fa, ma anche per la salute di chi lo deve vendere. Tutti perché è una garanzia, questo è il discorso. Quindi questa è la prima cosa. Visto che abbiamo un paio di minuti, non tralasciamo anche le novità nell'ambito invece dell'argomento che abbiamo prima toccato, che è quello del tumore maligno alla prostata. Però prima volevo dire soltanto che c'è anche da un punto di vista dell'approccio chirurgico nell'ipertrofia prostatica benigna, oggi si cerca di non fare interventi cruenti. C'è una cosa nuovissima per cui praticamente si mettono due piccoli fili dentro nella prostata che allargano un po' il canale e siccome i disturbi urinari dipendono da una difficoltà a emettere l'urina, c'è una ostruzione, il canale viene ristretto dall'ingrossamento prostatico, questo riesce a riallargare questo canale facendo un intervento in cui non c'è nel bisturi né sanguinamento né un intervento cruento, la persona viene toccata, fa questa piccola cosa che dura un quarto d'ora e va a casa dopo quattro ore. Beh, ha fatto bene a ricordare perché... Questa è una cosa nuovissima perché anche questa è stata approvata da questo organo statunitense due giorni fa, per cui è una cosa nuovissima, in Italia si sta facendo in pochissimi centri, io parto settimana prossima anch'io, quindi è una cosa nuovissima questa. Abbiamo allora adesso 30 secondi, il tempo è tiranno. No, per parlare del tumore della prostata. Esattamente, ci dica solo, ci sono novità buone? Sì, c'è una macchina che permette di intervenire sul tumore della prostata e di controllarlo, senza bisturi, senza intervento chirurgico, che oltretutto è devastante quando si fa un intervento chirurgico e questo è possibile utilizzarlo, questa macchina, colpendo soltanto il tumore e senza togliere e bruciare tutta la ghiandola. Questo si fa con gli ultrasuoni, è una macchina nuovissima anche questa che permette di ottenere degli ottimi risultati, o meglio, c'è questa speranza che si abbiano dei buoni risultati senza dover intervenire in maniera drastica e cruenta. I tempi televisivi a volte sono cruenti, quindi siamo giunti quasi al termine del nostro appuntamento, però dovevamo lasciarci almeno con questa buona notizia. Ci sarà modo magari di approfondirlo nuovamente nel nostro studio in sua compagnia, perché mi fa sempre piacere averla ospite. Ma ringrazio molto. Ricordo che avete visto poco fa, lo rivediamo anche adesso, www.giancarlo-comeri.com anche per avere maggiori informazioni su quello che non siamo riusciti adesso a spiegarvi in modo approfondito. Ricordo invece www.laquietevarese.it per andare a trovare le informazioni del convegno di sabato 12 ottobre che tratterà questi temi per tutti i medici di medicina generale. Grazie per essere stato con noi. Grazie mille a lei, buonasera a tutti. E noi ci interrompiamo pochissimi istanti di pubblicità, poi siamo di nuovo con voi. Grazie mille a lei, buonasera a tutti. Grazie mille a lei, buonasera a tutti. Pronto? Sono Mario Lucini. Il sindaco risponde in diretta a martedì alle 20 sui tv. Corriere di Como, in tutte le edicole della provincia di Como con il Corriere della Sera. Sfoglialo anche sul web. Ben ritrovati nel salotto di Angoli, seconda parte molto importante questa sera perché daremo utilissime informazioni per tutti coloro che vanno a cercare i funghi, che amano mangiarli ma magari hanno dei dubbi riguardo alla loro commestibilità. Come facciamo? Ci affidiamo nelle mani esperte del dottor Marco Larghi al quale do innanzitutto il benvenuto e buonasera. Salve, buonasera. Grazie per essere con noi. Ricordo subito per tutte le persone che ci stanno seguendo che lei per prima cosa è un micologo, quindi esperto di funghi. Per prima cosa sì perché parliamo di funghi, certo. Sì, ma è anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'ASL di Como. Noi diamo delle importantissime informazioni, adesso l'ho detto, a tutti coloro che si accingono in questa stagione magari a cercare i funghi, vero? Sì, esatto. Perché bisogna saperli riconoscere, insomma bisogna saper avere occhio in questo campo. Sì, bisogna avere tante precauzioni, tante prevenzioni, infatti abbiamo detto prima che il nostro è un lavoro di prevenzione. Ci sono tante prevenzioni, la prevenzione verso la natura, direi, la prevenzione verso gli incidenti, perché non dimentichiamo che chi va a funghi rischia anche incidenti e certe volte ne muoiono di più perché cadono piuttosto che gli avvelenamenti. E non ultimo, anzi importantissimo, la prevenzione sta nel, appunto come diceva lei, nel riconoscimento dei funghi. L'ASL ha proprio un dipartimento, una struttura che tutela? L'ASL ha una struttura che si chiama Ispettorato Micologico, che oltre a controllare, ma è un'attività minore, i funghi nel circuito commerciale, ristoranti, vendite, negozio, soprattutto da aprile fino a novembre, cioè la stagione dove essenzialmente si trovano i funghi, offre ai cittadini un riconoscimento gratuito di tutti i funghi che vengono portati. Chiaramente chiede alla gente che rispetti gli orari, abbiamo un volantino con tutti i punti, abbiamo sette punti in provincia dove vedete i funghi, tutti gli orari, tutti i giorni, porti i funghi in determinate condizioni, dopodiché noi li guardiamo, se sono buoni li restituiamo, se non sono buoni li confischiamo e rilasciamo anche un certificato vero e proprio con il riconoscimento di genere e specie e anche e soprattutto con i consigli per la cucina, perché il problema è questo qui, che non ci arrivano solo funghi velenosi, anzi i funghi velenosi sono abbastanza pochi che ci fanno vedere, ci arrivano funghi in cattivo stato di conservazione. Perché anche quello è un ulteriore problema. Esatto, perché è un cibo anche quello, per cui comunque il fungo non è che può mangiarlo pieno di vermi o passato. Tant'è vero che noi consigliamo alla gente prima di portarci i funghi, siccome vengono raccolti o il sabato, la domenica o il giorno prima, o il pomeriggio, di tenerli in temperatura da frigorifero, cioè a due gradi, perché così si conservano anche nel circuito commerciale, i funghi che vengono importati per esempio dalla Romania e dalla Bulgaria vanno sui camion frigo e stanno in giro 3-4 giorni dal momento della raccolta al momento della vendita nel supermercato, sempre a temperature di 2 gradi per potersi conservare. Chi li congela fa bene o fa male? No, li può anche congelare, ma non prima di farceli vedere. Li può congelare dopo, cioè per la preparazione, però sempre rispettando tutte le indicazioni che noi gli diamo. Cioè tutto questo porta a una cosa, che chi raccoglie i funghi dovrebbe farceli vedere sempre. No, perché per essere sicuri di un fungo, anche i più famosi, ci vuole l'occhio di uno che fa questo di mestiere. Quindi non improvvisiamoci. Diciamo così, non è proprio un diploma, è un attestato di micologo che ci permette non solo di vedere i funghi e di riconoscerlo, ma di fare questo mestiere volendo in tutta Italia, perché c'è proprio un albo ministeriale che prevede tutti i micologi in Italia e possiamo anche lavorare nelle fabbriche o nelle ditte di importazione volendo. Noi però nell'ASL lo facciamo gratuitamente per i cittadini. Questo è un dato importantissimo, segnatevelo perché spesso magari ci avventuriamo perché esce anche una bella gita domenicale tra amici per andarli a cercare. Magari li sappiamo riconoscere, però non siamo così esperti. C'è servizio gratuito, il sito serve anche per andare a recuperare la locandina che abbiamo visto poco fa e di cui ci parlava il dottor Largi. Di cui ci sono orari e tutto. Esatto, www.asl.como.it perché è il sito dove poi si trovano tutti i dettagli per sapere i sette uffici in provincia di Como a cui rivolgersi rispettando gli orari. Sì, rispettando gli orari e le condizioni in cui si debbono portare questi funghi. Esatto, quindi se dovessimo dare però intanto a tutti quelli che ci stanno ascoltando che hanno in programma di andare a fare la loro gita alla ricerca dei funghi delle norme base per rendere questa esperienza corretta e svolta in sicurezza. Ci sono delle norme base che sono per esempio quello che è sempre meglio andare in due, evitare le zone particolarmente ripide, portarsi un telefonino in tasca magari, e poi però non sempre le zone prendono, avere dei vestiti comodi, non usare i cestini perché una mano è impegnata e l'altra no, per cui è meglio una tracolla, magari usare un bastone con un manico ricurvo per attaccarsi. Certo, questo proprio anche per la sicurezza personale. Sì, per la sicurezza personale, certo. Poi logicamente i funghi vanno colti interi, puliti rapidamente ma interi e vanno portati al riconoscimento interi perché il fungo per essere sicuro di riconoscerlo deve avere tutte le sue parti, cioè non vanno tagliati, tagliuzzati, portati a pezzi, soprattutto specie diverse è meglio tenerle separate per evitare poi che i pezzi vengano frammisti. E soprattutto devono essere portati tutti i funghi raccolti da noi, perché i funghi è difficile confondersi, è difficile riconoscerli. Allora magari uno ci porta un po' di funghi pensando che quelli che non ha portato e ha lasciato a casa siano uguali a quelli che ci ha portato. Quindi non facciamo gli esperti, anche se magari lo siamo. L'intero quantitativo, in stato buono appunto, ben tenuto, cioè non nei sacchetti di plastica per esempio perché si confonde tutto, ma nei cestini è meglio se si sono anche forati perché il cestino respira. Da quando li cogliamo li teniamo in frigo a due gradi e poi andiamo all'asl e li facciamo riconoscere gratuitamente. Ci ha portato delle fotografie, sono otto, le guardiamo insieme perché almeno iniziamo anche a guardarli. Sì, questo è uno dei funghi più famosi, tutti i funghi come gli animali e le piante hanno dei nomi latini. Questa si chiama Amanita muscaria, detta anche fungo di biancaneve. Sembra quello dei cartoni animati. Sembra quello dei cartoni animati, è un fungo velenoso e ce n'è tantissimi in giro. Queste qui tra l'altro sono foto fatte nella zona, per cui... Quindi sono anche i più comuni che possiamo trovare se andiamo qui intorno. Sì, sono i comuni che si possono trovare. Quest'altra è una Amanita invece commestibile, però solo se cotta. Questo introduce già il discorso che voglio fare prima. Si chiama Amanita rubations. Andiamo pure avanti, commestibile. Questo è un boletus classico, non è proprio il porcino tradizionale, ma va bene lo stesso. È un boletus commestibile che si può mangiare. Andiamo all'altro. Ecco, invece questo è sempre un porcino, della famiglia dei porcini cosiddetti, boletus, ma si chiama boletus satanas ed è un boleto velenoso. E il nome già ce lo faceva capire. Sì, per cui non tutti i porcini, non tutti i boleti, questo già vi fa capire, sono commestibili. Quindi noi lo cogliamo perché fa parte della famiglia, ma non è... Questo è un altro esempio strano perché è un cortinarius ed è l'unico cortinarius commestibile. Si chiama prestans. Mentre tantissimi altri cortinarius non sono commestibili. Non sono commestibili. Per cui bisogna proprio venire e farceli vedere. E per quello portateli tutti, tutti, non dimenticate a casa nessuno, tra quelli che avete colto, questo? Dunque, questo è un altro boletus che ha dei colori strani. È particolare perché magari aprendolo diventa blu, verde, cambia colore, uno pensa che... E invece è commestibile, si chiama boletus luridus. Ok, ok. Ne abbiamo forse un altro. Ecco, questa qui è molto interessante perché c'è un fungo commestibile, la macrolepiota procer, che si chiama anche mazza da tamburo, no? Quello più grande. Quello più grande, che si mangia impanato, è buonissimo, va cotto parecchio. Di fianco, quello piccolino, è un fungo mortale. La famosa amanita falloides. Quella gialla, credo. Quella verdina, lì che si vede. E crescono proprio vicini, no? Sì. Ecco, è proprio un esempio tipico. Questo ci fa capire come è anche facile, magari, raccoglierli tutti insieme e poi pensare che, visto che uno era commestibile, lo sia anche quello vicino. Tra l'altro, di quella famiglia lì, delle cosiddette mazze di tamburo, ce n'è anche un paio velenose. Eh sì? Che sembrano quasi uguali a quelle altre. Cioè, i funghi sono una cosa molto difficile e molto particolare. Quindi? Tenga presente che in Lombardia, io mi occupo dei dati lombardi, anche ci sono... L'anno scorso abbiamo avuto 200 casi di intossicazione, no? Ecco. in tutta la Lombardia. In provincia di Como abbiamo avuto 12 casi. Però la cosa fondamentale è questa, che tutte le intossicazioni sono domestiche. Cioè, uno non è che si intossica al ristorante o perché... No, no, è perché proprio l'ha raccolta, l'ha portata a casa e ha commesso una disattenzione. Ha commesso una disattenzione. Però l'altra cosa curiosa, o curiosa ma molto interessante, è che almeno il 70%, dal 60% al 70% delle intossicazioni, sono intossicazioni da funghi commestibili. E allora che... come mai? Perché solo un 25% è da funghi velenosi, veramente. Perché la gente o li cuoce male, o li conserva male, o li mangia crudi, o ha delle intolleranze. Per cui la maggior parte delle intossicazioni da funghi è su funghi commestibili. Qui dobbiamo alzare veramente le antenne. Questo è uno dei motivi per cui veramente bisogna prendere nota di questo servizio dell'Asle importantissimo. Sì, sì, è sempre meglio proprio farceli vedere anche perché noi diamo i consigli su come cuocili, se mangiarli crudi, non mangiarli crudi. In questo Depliant, oltre a tutte le indicazioni di tipo sulla sicurezza, camminare su come portare i funghi, c'è anche un vademeco di salute che dice che è meglio non darle ai bambini piccoli, è meglio non mangiarne troppi, è meglio non evitare il consumo per chi ha dei disturbi al fegato, al rene, alle persone in gravidanza. Beh, è un, direi, un Depliant utilissimo. Sì, sì, c'è un po' di tutto, ecco. Però dobbiamo lasciarci, visto che siamo quasi al termine dell'appuntamento, veramente con un messaggio importantissimo. Io sono completamente affascinata da questo nostro incontro perché devo ammettere che non vado a cercare funghi. Mi piace mangiarli ma non li conosco e sinceramente sono impressionata dal fatto che le intossicazioni avvengono perché magari si cucina male una specie commestibile. Cioè perché io questa cosa non lo sapevo, magari tanti fra voi anche sottovalutavano questo aspetto, motivo per cui abbiamo un servizio ottimo all'ASL di Como, è quello dello sportello gratuito per il riconoscimento dei funghi, prendete nota del sito www.asl.como.it. Dottor Larghi, lei che è micologo, lei che è direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica, ci lascia con un ultimo invito a questo. Dobbiamo? Sì, dobbiamo far vedere i funghi. Dobbiamo anche, probabilmente parlarne un po' di più perché forse i dieci minuti sono un po' pochi. Chiuderei con una raccomandazione. Fra le intossicazioni di funghi commestibili, quella che è la più diffusa, che addirittura è il 50% di tutte, mentre ho detto il 75% è di commestibili. Di questi il 50% è un'intossicazione da chiodino, che è un fungo comunissimo, detto anche armillaria mella, che si trova proprio in questo periodo, fine autunno. Perché la gente lo cucina senza prima sbollentarlo. Allora questo fungo va prima sbollentato per un quarto d'ora e venti minuti, poi bisogna buttare via l'acqua di cottura, rilavarlo e alla fine si può cuocere. Se non si fa così la gente si intossica. E visto che è il fungo più diffuso in questo momento. È il fungo più diffuso in assoluto, se ne trova facilmente nei boschi anche tante, perché cresce sugli alberi morti. Ed è il fungo più pericoloso di tutti, non perché è mortale, perché poi alla fine uno fa una lavanda gastrica, dà delle gastroenterite. Però è quello che dà più intossicazioni e la gente va comunque all'ospedale. E come no, 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 ci ha dato un ultimo importantissimo consiglio, tenete nota e magari allora ci rivedremo anche in trasmissione per riparlarne. Sì, ecco, l'ultimissima cosa è che noi facciamo un servizio anche in caso di intossicazione per il pronto soccorso. Cioè quando una persona va al pronto soccorso e dice di essere stati intossicati e mangiati, chiama noi perché riconosciamo il fungo e aiutiamo i medici nella terapia. Perché può essere un fungo mortale, può essere un fungo invece cucinato male, può essere un fungo solo velenoso ma poco velenoso. E allora un servizio importantissimo. Un servizio di giorno, di notte, di sabato o di domenica. Perfetto, questo ci rassicura molto, grazie per avercene parlato, spero di riaverla ospite in studio. Come vuole lei. Allora, grazie al dottor Marco Larghi che è stato il nostro ultimo ospite di questa serata di Angoli. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, vi invito come sempre a rivedere le puntate sul sito espansionetv.it ma vi aspetto come sempre alle ore 19 di domani sera. Arrivederci.